in collegamento ai nostri prossimi ospiti perché abbiamo in collegamento anche video abbiamo con noi Marco Lombardi di Calcio Napoli 24 e il giornalista Lorenzo Vendemiale eccoci buon pomeriggio ciao a tutti ragazzi ciao buon pomeriggio ciao Lorenzo parto dal tuo tweet di ieri quello su da zona e sulla quella strana cosa del di vedere un campo vuoto senza aggiornamenti senza nulla che è emerso ieri non vogliamo criticare il lavoro degli altri però obiettivamente ci è parso un vuoto come sottolineavi tu anche nel tweet beh sì è stato oggettivamente un blackout surreale anche perché diciamo era un momento drammatico in cui davvero tutta Italia voleva avere aggiornamenti notizie ci sono momenti in cui paradossalmente l'urgenza del servizio giornalistico si sente molto di più che per commentare un banale gol o un rigore no e vedere la tv della serie a perché poi la zona è quella che ha l'esclusiva dell'intero campionato fino al 2099 quindi è la tv della serie a chiudere il segnale perché evidentemente non sapevano che fare sono stati colti completamente alla sprovvista e non avevano i mezzi le competenze per coprire un evento che andasse al di là della semplice telecronaca della gara è stato davvero per certi versi surreale ma anche poi diciamo accantonata alla drammaticità della questione ora per fortuna il ragazzo sembra star meglio quindi si può parlare anche più serenamente del contorno della vicenda no perché poi queste sono vicende di contorno e anche un po' preoccupante di come viene valorizzato il prodotto serie a perché vuol dire che diciamo lo sapevamo già ce lo siamo raccontati un po' in tutti questi anni però questa è stata proprio la conferma dimostrazione più più lampante tangibile che da sonno non ha costruito nulla intorno al diritto tv cioè oltre all'immagine non c'è nulla tant'è vero che poi alla fine che cosa è rimasto rimasta questa immagine surreale la telecamera accesa sul sul campo vuoto con l'audio ambientale degli effetti dello stadio e nessuno però non c'era uno studio in grado di raccogliere la linea non c'era un inviato sul campo a Firenze in grado di prendere aggiornamenti non c'era una redazione per verificare le notizie e questo oggettivamente è un po' sconcertante insomma soprattutto se poi si va a fare il paragone su quanto avveniva in parallelo su sky che invece hanno fatto una copertura davvero ammirevole dell'evento ecco sì c'è infatti c'è questa disparità allora io vado da Marco Lombardi invece per raccontarci quanto è avvenuto a Torino no questo caos questi tifosi senza biglietto che hanno poi ostacolato le famiglie c'è stata paura ci sono stati momenti di tensione cosa è successo Marco e allora in primis ci sono stati problemi anche con chi poi aveva il biglietto perché c'era la problematica che alcuni di loro avessero in primis biglietti di altri settori quando invece c'era il divieto per i residenti in campagna di entrare in altri settori poi c'erano altri tifosi che avevano i biglietti con dei nominativi diversi dal loro documento e inoltre poi ulteriormente c'era chi anche proprio era giunto lì senza biglietto e però rispetto agli altri anni scorsi la le forze dell'ordine si erano già predisposti in maniera molto più massiccia c'erano ad occhio almeno il triplo delle forze dell'ordine schierate rispetto alle ultime trasferte a Torino all'Olimpico e questo ha un po' colto risprovvista a tutti e poi si è stata appunto effettuata questa specie di imbuto che andava poi a confluire verso la parte finale del prefiltraggio verso il settore ospiti e in questo imbuto purtroppo a causa di questi tifosi che non diciamo o chi aveva biglietti diversi o chi non aveva addirittura il biglietto a causa di questi tifosi che si sono messi dinanzi a questo muro di forze dell'ordine tutte le persone che invece avevano regolare il biglietto e erano lì solo in fila per poter passare ed entrare sono rimaste schiacciate da questa calca quindi si è davvero rischiato il peggio si è temuto il peggio per alcuni attimi tra l'altro anche se andati anche uno scontro molto molto veloce e leggero con anche delle manganellate e dei lanci di bottiglie di vetro e fumogeni e quindi in moltissimi circa 500 sono entrati a gara in corso e vi dico che l'ultimo tifoso del napoli entrato per la per la gara è entrato al trentesimo minuto del primo tempo quindi per motivi non adducibili a sue colpe quindi chi rimborsa questo primo tempo perso a questi tifosi ovviamente purtroppo nessuno lorenzo ti chiedo sei sempre molto attento alle questioni di non so se c'è ancora lorenzo vedo lo schermo nero ah ci sei c'è c'è sì 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 ti molto attento alle questioni di politica calcistica no di eh e periodi di elezioni lega figici qual è il tuo punto di vista su questa vicenda? Scusa puoi ripetere la domanda che purtroppo quando arriva una chiamata perdo il ah sì certo no di giro sei sempre molto attento alle questioni di politica calcistica no siamo in periodi di elezioni soprattutto quelle di della figici con gravina ricandidato qual è il tuo punto di vista su questa fase del calcio italiano? Eh beh eh diciamo il è il punto di vista che penso abbiamo tutti cioè nel senso abbiamo un presidente federale che nonostante tutti i fallimenti della sua gestione perché abbiamo fallimenti sportivi evidenti con la nazionale ma abbiamo anche fallimenti gestionali evidenti con tutte le mancate riforme tutte le promesse non mantenute degli ultimi cinque anni perché poi il tempo è passato la prima volta che gravina fu eletto presidente del calcio il duemiladiciotto sono passati sei anni insomma è un arco di tempo sufficiente per incidere in cui oggettivamente non è stato fatto praticamente nulla per il calcio italiano quindi nonostante questi fallimenti nonostante anche gli scandali i problemi giudiziari del presidente che oggi è indagato un'indagine molto pesante che riguarda peraltro il suo operato come dirigente calcistico cioè non è una vicenda che lo tocca nella sfera personale privata e quindi sono due piani differenti è una vicenda che riguarda il suo operato nella vicenda diciamo nel mondo calcistico e che ovviamente siamo siamo e sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio però è una vicenda che ha già messo dei punti di punti fermi cioè magari gravina io glielo auguro sarà assolto la sua posizione sarà archiviata anche prima di andare in giudizio questo lo scopriremo nei prossimi mesi però comunque l'inchiesta ha evidenziato dei comportamenti oggettivi che non sono consoni con quelli di un uomo delle istituzioni cioè ovvero intrattenere rapporti privati con quelli che sono persone e fornitori che orbitano comunque al mondo del calcio c'è una serie di conflitti di interesse macroscopici che noi abbiamo raccontato anche sul fatto quotidiano e che fanno capire l'inadeguatezza ecco nonostante tutto ciò nonostante tutto consiglierebbe inviterebbe a farsi da parte noi abbiamo un presidente federale che dal giorno esatto successivo all'eliminazione europei contro la svizzera che sembrava un po' il punto di non ritorno lui stesso aveva inizialmente fatto pensare fatto capire che magari si sarebbe fatto da parte il momento opportuno invece da quel giorno ha lavorato in maniera sistematica e bisogna riconoscerelo molto intelligente per riconfermare il suo sistema di potere ha confermato piazzato tutti i suoi alleati nei posti decisionali chiave nelle componenti che ora voteranno a febbraio e quindi diciamo il calcio italiano è letteralmente nelle sue mani quindi è un'elezione al momento abbastanza scontata e chiusa nonostante quelle che può essere l'incognita della dell'inchiesta giudiziaria perché chiaro che se poi arrivasse un rivia giudizio prima delle elezioni davvero sarebbe difficile sostenere questa posizione però io non mi sorprendo più di nulla e nonostante anche la suggestione di cui si è parlato un po' negli ultimi giorni di una possibile candidatura di di Alessandro del Piero che sicuramente sarebbe diciamo sicuramente un nome molto mediatico che diciamo ha un po' acceso l'entusiasmo di addetti ai lavori tifosi perché sarebbe comunque un nome nuovo un calciatore al comando del calcio italiano cosa che non è mai successa e però poi qualcuno lo deve votare il presidente qualcuno lo dovrebbe votare del Piero e e e oggettivamente oggi i numeri sembrano tutti abbiamo perso un lato telefono Lorenzo va bene allora Mario lo salutiamo in privato perché comunque aveva concluso il suo discorso e torniamo invece da Marco Lombardi che ci sta ascoltando Marco ci sei sempre eccolo qua ecco Marco allora ci hai descritto un po' la situazione riguardo la gara di ieri a Torino invece che cosa dobbiamo aspettarci per le due partite con la Lazio ovviamente giovedì all'olimpico e poi domenica al Maradona gli annunci ufficiali quando arriveranno ma credo che ormai sia questione di ore penso e spero soprattutto quindi credo che tu ti riferissi sempre alla questione di di pieti giusto? di di pieti sì 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 ormai già sono mi sembra l'altro giorno sono stata pubblicata alla Lazio la nonizia sui biglietti venduti no? Tutti tranne residenti in campagna. Sì quindi di fatto è ufficioso e ufficiale al 99% ed è una cosa per me inconcepibile sia in un caso che nell'altro perché come dicevano ieri tifosi all'esterno del settore ospiti ma allora questa scheda questa tessera del tifoso tutte queste schedature che ci sono state fatte tutte le precauzioni prese nel corso degli anni ma a cosa sono servite? A cosa serve la tessera del tifoso se io tifoso del Napoli della Roma del Milan devo avere queste limitazioni? Poi se una persona X viene colta a fare un qualcosa di grave d'aspo punto non basta questo e bisogna predisporre delle ulteriori misure di sicurezza e di diciamo causa effetto se fai una cosa di grave vieni punito punto non è che il 90% dei tifosi che non c'entrano nulla con gli scontri devono pagare per colpa di pochissimi che in alcune circostanze ormai l'ultima però risale a un bel po' di tempo fa a Sampdoria Napoli quando appunto ci fu lo scontro in autostrada fra i tifosi fa gli ultras del Napoli gli ultras della Roma dicevo per pochi che hanno purtroppo queste questa questa abitudine di fare queste cose tutti poi devono pagare dopo che si è schedati dalla testa ai piedi che tutti hanno la testa del tifoso quindi si parlava di gravina no? La prima cosa che bisognerebbe fare di concerto con il governo ovviamente è qualcosa in merito alla sicurezza negli stati e anche vi permetto di dire a ciò poi che succede proprio materialmente perché se non ci fossimo stati noi tra l'altro ieri a mostrare le immagini che stavano si stavano appunto svolgendo le cose che stavano accadendo nel settore ospiti nessuno avrebbe mai saputo e io vi devo dire la verità a vedere bambini bambine donne piangere ed essere traumatizzati perché schiacciati da quella ressa creata purtroppo dalla mala gestione dell'evento di ieri onestamente a me fa male e pensare solamente che uno di quei bambini potrebbe dire la prossima volta al padre o alla madre no mamma non andiamo più in trasferta perché a me fa paura e qui non c'è già solo questo qui non c'è risarcimento no per un bambino traumatizzato magari perché no può iniziare a non amare più il calcio come prima e quello un danno irreparabile no se vogliamo io mi chiedo come mai un evento di tennis di basket o di palannuto si può vedere tranquillamente serenamente invece una partita di calcio sembra quasi doversi preparare ad un safari selvaggio o addirittura una zona di guerriglia ecco esatto quindi c'è bisogno davvero che è un'altra parte di calcio che è di calcio che è un'altra parte di calcio che è